Spuntano nuove curiosità sugli attori della vicenda AM e TAR di cui vi abbiamo riferito ieri, in particolar modo sulla società Albion, motivo del ricorso al TAR degli studi veronesi Sgaravato e Righini. Il caso è ormai noto, Albion ha partecipato ad un mando pubblico di AM, avendo alle spalle trascorsi professionali e consulenze sulla compagine societaria a cui appartiene AM, elementi che rendevano di fatto inopportuna la partecipazione stessa alla gara come salvaguardia della par condicio dei partecipanti. Da qui il ricorso e mentre il presidente di AM, Massimo Siboni, in un comunicato oggi dichiara che è da ritenersi corretta la missione di Albion, che AM prende atto della sentenza, restando nella convinzione della correttezza della gara effettuata per il servizio di advisor finanziario, perché sono state assicurate parità di condizioni concorrenti, di diverso avviso restano Marcello Ventura, consigliere di minoranza del Comune di Cremona, e Federico Fasani di NCD, che tra l'altro punta l'attenzione su un particolare. La storia di Albion risale a qualche mese fa quando il Comune di Cremona ha conferito un incarico per la consulenza sempre in materia di tematiche finanziarie connesse ad AM, dopodiché, dopo l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, Albion ha continuato direttamente questa volta da AM con degli ordini di acquisto a ricevere richieste di consulenza per cifre sempre crescenti. Si parla di consulenze che vanno dai 15.000 euro fino a 25.000 euro nel 2015, al giugno del 2015, e addirittura un'estensione di incarico da 99.000 euro nell'agosto del 2015. Quindi è una vecchia conoscenza. Parecchi mesi fa avevamo sollevato, insieme anche ad altri colleghi della minoranza, avevamo sollevato alcune perplessità riguardo ad alcune stranezze. Ad esempio che questa società, Albion, era già stata consulente, era già stata advisor finanziario per società nelle quali avevano operato soggetti che oggi siedono nel Consiglio di Amministrazione di AM. Avevamo saputo già inizialmente che Albion ha avuto una collaborazione, un mandato lavorativo da parte del Comune per conto di AM, per cui qualcosa non quadrava. E soprattutto questa voler Albion a tutti i costi ci ha generato i sospetti. Sostanzialmente io ritengo che sia l'ennesima figuraccia politica che viene fatta dai nuovi amministratori. Ricordo che nella sentenza del TAR c'è anche scritto che a un certo punto coloro i quali poi hanno ricorso e vinto al TAR la causa hanno sottolineato, hanno fatto notare ad AM che stava perseguendo una strada sbagliata, ma AM ha tirato dritto, ha continuato nell'assegnazione definitiva della gara e conseguentemente io reputo che ci sia una responsabilità molto importante da parte degli amministratori o comunque di chi ha gestito questo bando, perché non si tratta di un errore di calcolo del punteggio o un mero errore appunto materiale nell'assegnazione della gara. No, c'è stata un'azione proprio volta a perseguire pervicacemente, ripeto, questo obiettivo di assegnare l'incarico. Sicuramente speriamo che Messi con le spalle al muro finalmente dicano la verità del perché hanno voluto a tutti i costi Albion e gli scenari sono che non se ne può più di un'amministrazione che va contro tutto e tutti pensando di avere sempre ragione.